il cammino ma serve chi sta? ma posso vedere un attimo? eh? vieni qua, vieni ha cominciato a scaricare questa cosa a me non mi interessa ha cominciato a scaricare questa cosa io conosco che mi ha fatto da un attimo che noi non voglio se si si è un attimo se mi ha fatto io lo so che mi ha fatto che mi ha fatto a marzo ah 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 ah